Adesso sentiamo un non credente sul diavolo, il filosofo Massimo Cacciari, che ad Assisi al cortile di Francesco a metà settembre aveva detto chi va da solo va con il diavolo, lo abbiamo intervistato. Laicamente come si imposta il problema, come si può impostare? Il male c'è, il demonio uguale male esiste, si può dubitare dell'esistenza di Dio ma non si può dubitare dell'esistenza del male, si può dubitare dell'esistenza di Dio perché il bene nel mondo dov'è? Chi è giusto nel mondo? Chi è bene nel mondo? Chi può dirsi giusto e buono nel mondo? Ma invece è facilissimo dirsi cattivi. Chi di noi può non dirsi cattivo? Come si fa a non vedere che la nostra natura ha questo vulnus, cioè che siamo portati al male? Come si fa a non vederlo, a non capirlo? Quindi con questo vulnus noi dobbiamo entrare in lotta o in agonia in ogni istante della nostra vita ma questo vulnus c'è, il male c'è, oponeros, il demonio c'è. Dio? E Dio speriamo che ci sia, speriamo che ci aiuti nello sconfiggere il male, cioè il demonio.